La 38esima Assemblea Nazionale dell'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, da Parma a Palma di Montechiaro. Gaetano Rabanà. Il Comune di Palma di Montechiaro è stato presente alla 38esima Assemblea Nazionale Anci con una delegazione che comprendeva, oltre al Sindaco Stefano Castellino, il Presidente del Consiglio Comunale, Domenico Scicolone, il Vicepresidente Saro Falco e l'Assessore Lucia Vitanza. Nella stessa occasione, in questa grande cornice istituzionale, siamo stati invitati ufficialmente all'interno dello stand di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020-2021, dice il Sindaco Stefano Castellino, presente all'interno della Fiera di Parma, dove si sono tenuti gli incontri tra la mia amministrazione e il Comitato di Parma Capitale, col Sindaco Federico Pizzarotti e l'Assessore Michele Guerra. E l'amministrazione e il gruppo di lavoro Io Sono Palma, promotore di Parma Capitale, rappresentato da Angela Rinollo, che ha curato in questi quasi due anni, in modo professionale, degreggio, il rapporto istituzionale con la città capitale italiana della cultura 2020-2021, diventando il punto di collegamento tra le due realtà culturali, e che ha organizzato, insieme a Francesca Velani, coordinatrice di Parma Capitale, questo importante incontro istituzionale che ha portato importanti frutti, oltre a riempire d'orgoglio tutta la comunità palmese. Nelle prossime settimane, dice ancora Castellino, Parma e Palma sigleranno un protocollo d'intesa, in cui le due città saranno protagoniste, insieme di diverse iniziative congiunte, e la nostra città ospiterà presto la delegazione miliana. Il gruppo di lavoro Io Sono Palma ha consegnato ufficialmente anche una copia del dossier di candidatura, dove è stato inserito il progetto da Parma a Palma, che verrà messo subito in atto, grazie alla disponibilità e all'interesse che la nostra città ha ricevuto. Mai tre giorni in Emilia sono servite alla delegazione palmese di approfondire alcuni temi con diversi incontri e riunioni di lavoro. Abbiamo incontrato, dice ancora Castellino, diversi stakeholders per la creazione di una Smart City, visto che il comune di Palma di Montechiaro, entro fine anno, deve impegnare oltre 5 milioni di euro già deliberati per efficientamento e Smart City, appunto, conrete le possibilità che questo intervento possa raddoppiare diverse le esco incontrate. Un progetto che migliorerà le condizioni di vita della nostra città e l'ottimizzazione dei servizi e soprattutto la sicurezza della comunità. Saremo i primi in Sicilia e tra i primissimi nel sud Italia. Un altro incontro, sempre con diversi stakeholders, è servito per considerare la possibile realizzazione di nuovi impianti sportivi, tra le quali una piscina. Un sogno realizzabile grazie al credito sportivo che ci ha consentito già di realizzare il Palazzetto dello Sport. Un altro incontro importante è stato quello con un ente che si pone a sostegno dei comuni per la ricerca e la partecipazione di bandi di finanziamento. Anche qui siamo un punto di riferimento, avendo raggiunto quasi 50 milioni di euro di finanziamenti in quattro anni e mezzo. Nel corso dello stesso soggiorno, nella splendida Palma, l'amministrazione comunale Io Sono Palma ha incontrato i rappresentanti del FEC, Fondo Edifici di Culto Ministero Interno, al fine di poter pianificare interventi di messa in sicurezza di alcuni monumenti presenti nel territorio comunale, ma di proprietà del FEC, tra i quali ricordiamo il Monastero delle Benedettine. Incontro anche il Presidente di Promopà per una collaborazione articolata, per una programmazione culturale di alto livello che possa essere volano economico. Nel corso dell'Assemblea dell'Angi Sicilia, continuo ancora Castellino, Palma è stata protagonista insieme ai sindaci siciliani, ha portato avanti le istanze dei comuni in tema di bilancio e finanza locale. I comuni siciliani rischiano il collasso. Palma di Montechiaro è stato il primo comune ad approvare il bilancio di previsione 2021, per la seconda volta consecutiva nei tempi previsti. Fatto ma è accaduto nella storia del nostro comune, dice ancora Castellino, ed ha portato il suo contributo sia tecnico che politico per la battaglia in essere. Ma non è tutto. Il sindaco e la delegazione palmese hanno incontrato i rappresentanti del Dipartimento Sport e Salute, dove Palma vanda già enormi risultati raggiunti su 22 progetti finanziati a livello nazionale. Tutti i quartieri, quattro sono in Sicilia e due di questi a Palma di Montechiaro. Ai rappresentanti del Dipartimento, Castellino ha evidenziato come fossero ottimi bandi tutti i quartieri e tutti inclusione, evidenziando le criticità invece delle altre due misure sui parchi e sull'ora giunta di attività fisica. Insomma, molta carne al fuoco, conclude Castellino. A tutto questo si somma un'attività di public relation e di promozione portata avanti costantemente in tutte le occasioni. Abbiamo svolto un lavoro enorme ed abbiamo avuto l'orgoglio di ricevere il plauso per quando realizzato. Palma di Montechiaro, che con onore abbiamo rappresentato e diventata grazie al duro, costante e stile di lavoro, un punto di riferimento in diversi settori e il cammino di rinascita indapreso emoziona tutti. Il sindaco Castellino ha voluto ringraziare tutta la delegazione, Domenico Scicolone, Rosario Falco, Lucia Vitanze e Angela Rinollo, per il loro impegno, professionalità, passione ed edizione, a servizio della città del Gattopardo. Queste, dice ancora Castellino, sono le donne e gli uomini che rendono Palma orgogliosa.